Non è un monumento per i giovani, è un monumento per i bambini, è un lavoro, è un'opera a carattere ambientale che va vissuta. Il progetto del monumento alle vittime del 43 impressiona anche i rotariani. Lo hanno interiorizzato talmente tanto che il presidente Domenico Gentile lo descrive come se l'avesse sotto gli occhi. Lo considerano evocativo del dramma. Ospite di una conviviale, l'autore Cristian Biasci lo presenta al Rotary Club di Foggia che vuole ridestare l'attenzione e contribuire a sensibilizzare l'opinione pubblica affinché si concretizzi. Lo scultore, ultimamente molto quotato, affogge lo stesso della goccia dell'Avis nella rotatoria degli ospedali e docente dell'Accademia di Belle Arti, scenografo, ha lavorato con Mario Monicelli, Giorgio Albertazzi e collaboratore stabile di Carla Fracci. Il monumento da lui immaginato è una sorta di giardino pensile. Posizionato tra il nuovo terminal e piazza Vittorio Veneto, quella dello sfortunato viaggiatore donato proprio da Rotary. Il materiale, il cemento armato, è suggerito da quello che è accaduto. Foggia è stata schiacciata dal peso delle bombe. Non lo dimenticare mai è la frase che si ripete in tutte le lingue dei paesi che hanno partecipato alla Seconda Guerra Mondiale. La scultura per Cristian Biasci è già di per sé luce, ma questa è illuminata da fasce abbaglianti. Il presidente del Consiglio Comunale, Luigi Miranda, si complimenta con l'artista. Non deve essere stato facile realizzare un'opera che deve graffiare la vista. È arrivato il momento che quelle vittime vengano non soltanto ricordate, ha detto Miranda, perché ricordo indelebile, sebbene l'oblio sia un rischio dietro l'angolo con la scomparsa dei sopravvissuti e il passaggio delle generazioni, ma onorate. L'assessore all'urbanistica, Francesco D'Emilio, riconosce a Paolo Agostinacchio, presente in sala, di aver risvegliato il senso di comunità e ricorda come da sindaco istituì la giornata della pace il 22 luglio. Allora nacque forse quel sentimento che ha condotto all'esigenza di lasciare un segno più tangibile per onorare gli oltre 20.000 morti dei bombardamenti. Non è ancora stata quantificata la spesa per la realizzazione dell'opera, ma presumibilmente considerati materiali non si tratterà di una grossa cifra. Il progetto sta incontrando apprezzamenti, complimenti e sostenitori morali, ma inutile farne mistero, servono finanziatori, un'altra sinergia pubblico-privato. I tempi stimati per la realizzazione sono invece piuttosto brevi, pochi mesi. Il fondatore del Comitato per il Monumento, Alberto Mangano, promette, lo realizzeremo.